Dopo la pandemia e le immense criticità derivate dall'alluvione, Cantiano è pronta ad organizzare la turba il prossimo 7 aprile, venerdì santo, in cui alle pendici del Catria si tornerà a rievocare dopo tre anni la sacra rappresentazione della passione, morte e resurrezione di Cristo nella sua forma tradizionale di teatro religioso popolare. Un evento che è stato presentato oggi nella sede di Confcommercio Marche Nord, alleato promozionale di un borgo di Cantiano che si presenterà trasformato alla vigilia della Pasqua. Nei giardini pubblici verrà infatti allestito il Cenacolo, in Piazza Luceoli verranno innalzate le imponenti scenografie che rappresentano il Tempio dei Sacerdoti, il Pretorio Romano e la Regia di Erode, dove centinaia di persone interpreteranno le scene del processo e della condanna. E poi la salita al Golgotha, sulle colline sopra il paese e l'epilogo scandito da una processione di più di 250 figuranti illuminati da centinaia di torce che rischiareranno il buio della notte fino all'annuncio della resurrezione. Dopo tre anni di stop causa Covid, la comunità cantianese nuovamente colpita da un altro evento eccezionale che è l'alluvione del 15 settembre, vuole ripartire con un messaggio di fiducia di speranza e di graduale ritorno alla normalità. La turba è la nostra espressione identitaria e quindi abbiamo voluto, seppur sembri paradossale in un momento in cui il paese è ancora ferito, in cui la conta dei danni è milionaria, mettere in scena questo nostro evento, che ripeto è essere un evento identitario che riguarda l'orgoglio di una comunità che ritrova la sua socialità. È un messaggio di speranza legato alla Pasqua e quindi un messaggio di ripartenza necessaria, un paese che ha ancora ferite aperte ma che ha tanta voglia di rimettersi in gioco e di guardare con ottimismo un graduale ritorno al futuro. Siamo invece onorati di sostenere lo sforzo dell'intera comunità e dell'amministrazione comunale, dei cittadini di Cantiano per la ripartenza. La rinascita del comune ovviamente la si deve alle infrastrutture che debbono essere ripristinate, alle case, alle attività economiche, ma anche alla voglia di guardare al futuro con le varie manifestazioni turistiche, le varie manifestazioni culturali che negli anni hanno fatto l'importanza della comunità di Cantiano. In questo caso la turba è un evento di straordinaria importanza anche dal punto di vista turistico e per questo la Confcommercio, dopo anche la raccolta di fondi che abbiamo fatto a sostegno del comune, non potevamo che essere al loro fianco per sostenere questa iniziativa.